Ma i miei collaboratori non erano preparati. Mi è capitato una volta che erano di guardia, è partita una raffica, mi sbaglio, li sono scappati, sono rimasto lì da solo. E l'ho fatto, no, adesso basta, io devo formare un gruppo di sabotatori al mio comando e poi dopo ho chiesto al comando del 26 brigato con Luizio, ho intenzione di fare questa cosa. Fare una squadra di sabotatori, faccio io il corso alle dipendenze dirette della brigata. Il comando è stato molto d'accordo e io ho fatto questo corso con questi ragazzi e poi siamo andati avanti perché poi non succedeva, come se andava a fare un'azione e potevamo fare tre o quattro in una volta, con 12 uomini. Inoltre le chiamavamo meno perché purtroppo i morti ci venivano, mi fanno fuori meno e non ci rimane più nessuno. Facciamo il corso e fate ottenuto successo.